Una coppia è stata investita nella mattinata di venerdì 24 novembre, poco dopo le 11, in corso Torino-Angolo-Viepiava-Rivarolo-Canavese. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo-Canavese, il soccorso avanzato di Caluso e la polizia locale. A investire la coppia, marito e moglie, è stata una Fiat Panda, fermata poco più avanti dalla polizia locale. L'uomo e la donna sono rimasti feriti, ma fortunatamente coscienti. Dopo le prime cure sono state trasportate all'ospedale di Ivrea. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Il tratto stradale è stato chiuso temporaneamente al traffico. Non dovrebbero essere in pericolo.